Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Ennio Zingarelli è stato uno degli storici corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Ma che cosa fa oggi? Perché non è apparso più sul piccolo schermo? Gli appassionati di Uomini e Donne sicuramente si ricorderanno di Ennio Zingarelli. Nella prima edizione del Trono Over fu uno degli storici corteggiatori di Gemma Galgani, la dama di Torino che da oltre 12 anni è protagonista del programma condotto da Maria De Filippi. Ma che fine ha fatto oggi Ennio Zingarelli? Per quale motivo non si è più fatto vedere in televisione? Andiamo alla scoperta delle ultime news sull'ex corteggiatore di Gemma Galgani. Ennio Zingarelli, che fine ha fatto? Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2010, Ennio Zingarelli ebbe una relazione con Gemma Galgani. I due si frequentarono a lungo, uscirono dal programma e andarono addirittura a vivere insieme. Fecero anche una festa di fidanzamento e tutto lasciava presagire che presto sarebbero convolati a nozze. Ma le cose non andarono come previsto e i due terminarono la loro storia d'amore dopo qualche mese. I motivi reali non furono mai rivelati, ma diversi giornali di gossip parlarono di un'interferenza dei figli di Ennio Zingarelli. Essi, infatti, non avevano mai creduto alla «buona fede» di Gemma verso suo padre, temendo che la donna fosse interessata solo ai soldi del loro amato padre. Dopo la fine della loro storia d'amore come ben sappiamo tutti Gemma Galgani è tornata a Uomini e Donne in tantissime edizioni alla ricerca dell'amore. Ennio Zingarelli, invece, non è tornato più in televisione. Per quale motivo? Che cosa fa oggi l'ex corteggiatore di Gemma? L'assenza, oggi Ennio ha superato gli 85 anni ed è ancora in ottima salute. Nel 2021 Tina Cipollari in studio affermò che l'ex corteggiatore di Gemma era morto. Una notizia falsa, smentita da più parti. Ennio è ancora in forma, ma ha preferito staccarsi dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Sempre stando ai giornali di gossip e a vari rumors, sarebbero stati sempre i suoi figli a consigliare al padre di non tornare nel programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ennio Zingarelli, quindi, già in pensione ai tempi della sua partecipazione a uomini e donne si sta godendo questi anni lontano dalle telecamere, in compagnia dei suoi cari e dei suoi tanti nipoti. Infatti, è nonno e passa molto tempo della sua vita insieme a loro. L'uomo, inoltre, non ha mai avuto un profilo social. Grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.